grande fratello vip grande fratello 4 gradi puntata i nominati gf fini con le spalle al muro tutto quello che è successo nel corso dell'appuntamento del reality condotto da signorini in onda il 21 settembre 2023 by rebecca megna pubblicato su 22 settembre 2023 la quarta puntata del grande fratello 2023 è iniziata con gli scontri degli ultimi giorni la maggior dei concorrenti si sono schierati contro beatrice luzzi e il pubblico si è diviso c'è chi dà ragione a questi gf fini e chi invece ritiene che tutti loro stiano attaccando l'attrice perché la temono in quanto già nota nel mondo della televisione bisogna dire che la maggior parte sembra si sia schierata con beatrice si è passati poi a parlare della discussione avuta tra fiordaliso e claudio roma beatrice ne è uscita abbastanza bene visto che ha conquistato moltissimi telespettatori infatti il tutti contro uno non funziona mai nel frattempo cesara buonamici e alfonso hanno dato una lezione a claudio roma intanto signorini ha chiuso il televoto che ha visto sfidarsi beatrice arnold lorenzo e vittorio quest'ultimo è stato il primo a salvarsi nel corso della serata il conduttore ha chiamato in confessionale grecia haidi angelica e fiordaliso cosa hanno in comune queste quattro gfine tutte loro apprezzano il fascino di massimiliano varrese l'attore si è avvicinato molto a una di loro mostrando il suo interesse si tratta di haidi la quale stasera al gf ha spiegato di non voler avere altro che un'amicizia con massimiliano io penso di piacere molto a massimiliano mi guarda sempre mi piega le cose per questo atteggiamento ho avuto delle difficoltà non l'ho respinto e non gli ho messo dei limiti per me è una persona che stimo ma non lo vedo come un uomo che può stare al mio fianco non mi prenderei una responsabilità così grande è un uomo adulto che ha un passato importante grazie a tutti